Quest'anno abbiamo avuto questa collaborazione con Rossini TV ed è stata una preziosa collaborazione che ci ha permesso innanzitutto di dare l'informazione su tutte le varie attività, progetti eccetera che il nostro istituto fa. Abbiamo trovato una grande professionalità e puntualità sempre nella riproduzione di questi servizi ed è stata davvero una collaborazione di cui non faremo meno sicuramente anche il prossimo anno. È nostra assolutamente intenzione proseguire in quanto come dico appunto vorremmo continuare a far conoscere alla cittadinanza eccetera appunto tutto ciò che il nostro istituto fa e quanto appunto Rossini TV fa per noi. Istituto Bramante Genga, una scuola di grande tradizione in continua innovazione didattica e tecnologica.